E verrà come il sole che sorge al mattino Volerà come il vento che vola lontano Canterà, canterà come canta un bambino Correrà come chi vuole dirti è vicino Il Signore è qui Carissimi, ben ritrovati nel nostro appuntamento incontro di cuore a cuore nell'esperienza del cammino quaresimale che oramai volge al termine nel quale vogliamo ricostruire il portico della fede attraverso le due colonne ci siamo detti che dal Giubileo della Misericordia ad oggi in ogni quaresima ci vengono ricordate come pilastri fondamentali nel cammino della vita cristiana il primo appunto quello della riconciliazione della misericordia, dell'elemosina come appunto viene conosciuta spesso in questo tempo con il nome greco appunto che traduce quella commozione, partecipazione, solidarietà profonda, viscerale, materna direbbe il Papa Francesco che Dio ha per noi, per l'umanità e che ci invita ad avere gli uni verso gli altri seconda colonna appunto sul quale mettere l'arco della Pasqua è proprio quella della preghiera della preghiera in particolare di adorazione questo tempo il tempo della quaresima è per molte tradizioni liturgiche molte chiese il tempo delle 24 ore delle 48 ore delle 40 ore ecco, un tempo che di solito viene definito appunto con un fine orario ricordo nella collegiata di Meldola dove sono stato appunto giovane seminarista ormai più di 30 anni fa e continuava ad esserci questa tradizione la tradizione delle 40 ore nella settimana santa che cosa sono le 40 ore? sono appunto erano 40 ore distribuite nell'arco di tre giornate dal lunedì al mercoledì della settimana santa si faceva l'esposizione eucaristica dentro a una chiesa accessibile al pubblico tradizionalmente si faceva solo di giorno nella quale appunto poter vivere una sosta nella giornata una sosta particolare perché la preghiera dell'adorazione eucaristica solenizzata di solito dall'accensione delle candele sapete che liturgicamente si prescriveva che ci devono essere almeno tre più tre sei candele accese durante l'esposizione eucaristica quindi questa abbondanza spesso solenizzata anche dall'uso dell'incenso quindi un odore particolare un profumo che riempiva un po' tutto il luogo della preghiera nel quale appunto poter vivere il tempo dell'adorazione in silenzio spesso appunto la preghiera di adorazione soprattutto dalla riforma del Vaticano II viene suggerita attraverso questo strumento che appunto un amico sacerdote dice è uno strumento internazionale perché se si fa una preghiera a parole è chiaro che chi non parla la tua lingua non può capire ma se si fa il silenzio il silenzio parla tutte le lingue ecco allora quindi il silenzio le candele le luci il profumo dell'incenso nelle chiese si vive questo tempo abbondante perché appunto ha un inizio e una fine deve avere sempre una sorveglianza una presenza di un minimo numero di fedeli fino a prima della riforma si richiedeva per poter fare l'esposizione eucaristica almeno otto persone però ecco comunque ecco oggi siamo soliti richiedere la presenza di almeno una o due persone che vigilino la visibilità appunto attraverso quelli che vengono chiamati gli ostensori cioè gli strumenti attraverso il quale viene reso visibile il pane eucaristico pane consacrato che viene usato nell'eucarestia e che viene custodito appunto per la comunione agli ammalati e per donare questo questa possibilità della preghiera appunto silenziosa la preghiera di adorazione in che cosa consiste l'adorazione? beh tradizionalmente anche qui di per sé è una preghiera che prevede una prostrazione lo stare in ginocchio spesso nella tradizione occidentale latina non c'è la prostrazione a terra totale se non appunto in alcuni momenti particolari previsti dalla liturgia però ecco spesso la preghiera di adorazione richiede appunto una posizione del corpo che permetta una sosta prolungata una sosta che si prolunga nel tempo e che dia la possibilità alla persona, al credente, al fedele di stare con un contatto visivo verso l'eucarestia in un'adorazione in una prostrazione che è innanzitutto quella dell'anima non solo quella del corpo e che quindi è un riconoscere a Dio la sua centralità in quel momento e in quel frangente che può essere un quarto d'ora può essere anche un'ora anche una mezza giornata porsi con una priorità darsi una priorità nella propria esistenza ricordarci che Gesù è al centro non solo di una chiesa non solo adorato da tutti coloro che entrano ma è al centro anche della nostra vita di quelle che sono le nostre priorità quotidiane oggi vedo che in parrocchia mi capita spesso di confrontarmi con le persone riguardo alla centralità delle loro giornate e al modo con cui si danno le priorità siamo spesso abituati a vedere persone un po' di corsa un po' incastrate nei vari impegni della giornata desiderosi di compiere tutto quello che hanno promesso magari ad altri di fare o che si sono prefissi di fare e quindi siamo abituati a dare la priorità innanzitutto al nostro programma ognuno ha la sua sequenza di eventi magari predefiniti preorganizzati siamo soliti dare appuntamenti sempre di più si danno appuntamenti luog ora precisi difficile trovare dei luoghi anche pubblici dove non c'è un appuntamento perché così riusciamo a organizzare meglio il nostro tempo però ecco può succedere che queste cose saltino può succedere che ci siano altre priorità che prevalgono ah ti avevo promesso che ma è successo che e cosa ci permette di dare priorità ad altro anche quando abbiamo non so una giornata organizzata con tante speravamo di andare in vacanza ma ecco la strada è interrotta non si può andare c'è un problema c'è una crisi internazionale tante cose possono darci delle priorità diverse rispetto a quelle che sono quelle che fissiamo noi e cosa ci permette di essere elastici cosa ci permette di cambiare programma di accettare che non so per vari motivi più o meno importanti più o meno drammatici i nostri programmi possano cambiare ecco io penso che questa quaresima è l'occasione giusta stare di fronte a Gesù nella preghiera dell'adorazione ci aiuta a ricordare a fissare nella memoria che non siamo noi a fissare il nostro programma in un modo definitivo scolpito con stilo sul piombo con stilo di piombo con stilo sul marmo sulla roccia sulla pietra cosa che ci permette di essere inflessibili o no devo andare non ho tempo quante volte anche per strada uno ti saluta vado scusa non ho tempo non posso fermarmi interessante questo essere ligi ai nostri impegni e fedeli alle priorità che ci siamo dati e a volte però questo diventa un essere sordi ad altre priorità che bussano al nostro cuore può essere essere sordi a quelle che sono i programmi che Dio preferisce darci piuttosto che i nostri e capite che se io sono nell'ottica di chi dice ok signore questa è la mia giornata io avrei previsto di fare questo ma tu cosa desideri da me che programmi hai per me cosa pensi per me per le persone care per le persone che mi sono vicine qual è il progetto di Dio qual è l'agenda che il signore ha per noi a volte potremmo rimanere molto stupiti per chi capita quel contrattempo perché capita anche senza stare a scomodare grandi eventi drammatici ma anche le piccole cose che non vanno come noi avevamo previsto mi ricordo una volta accompagnando una persona all'aeroporto ci siamo messi per strada poi ci siamo resi conto quasi subito che i calcoli fatti sul tempo per raggiungere l'aeroporto non erano calcoli che tenevano conto di un problema di ingorgo di traffico esagerato perché quello era l'inizio di un ponte quindi tanta gente era per strada non ci avevamo pensato e poi dopo le corse per riuscire ad arrivare in tempo alla fine ce l'abbiamo fatta perché si è partiti un po' con un certo congruo anticipo ma ecco a volte può capitare di trovarsi in queste situazioni e di dire oddio non avevo pensato che oggi comincia il ponte del 2 novembre può succedere e come reagiamo noi di fronte a queste cose a volte appunto si sente la rabbia di dire ma perché non ci ho pensato prima perché non mi sono informato perché non ho guardato il traffico certamente può esserci questo disappunto ma a un certo punto può succedere che dentro di noi nasce il ricordo di quel momento di adorazione di quel momento di silenzio di quel tempo che ci siamo presi per stare in adorazione davanti al Signore e come ci inginocchiamo di fronte a Dio possiamo anche abbassare il capo di fronte all'imprevisto e dire fiat volontas tua sia Signore fatto secondo la tua volontà anche dalle piccole alle grandi priorità che la vita ci pone la realtà ci presenta nella consapevolezza che noi possiamo fare conti sul futuro possiamo fare i conti sul nostro tempo sulla nostra disponibilità ma questi conti sono sempre fatti senza loste senza una garanzia totale perché noi non sappiamo possiamo progettare certamente coltivare in noi il desiderio l'aspettativa anche penso adesso in queste settimane molti stanno decidendo come anche noi con i gruppi parrocchiali le eventuali future vacanze estive uno dice programmiamo l'estate in famiglia cerchiamo di trovare qual è la settimana i tre giorni il weekend in cui possiamo dedicarci un po' di tempo più rilassato ma sono tutti programmi senza loste facciamo i conti senza loste cioè quando poi arriva loste quando arriva il momento quando arriva l'istante dobbiamo fare i conti con la realtà e questo può essere anche qualcosa di sconcertante che ci spiazza può creare disappunto ma ecco di fronte al desiderio di dominare di avere il potere sul nostro tempo sulla nostra vita sulla nostra casa uno magari programma di avere una giornata con le finestre aperte e poi succede che il vicino di casa deve demolire una casa e quindi ti tocca chiudere le finestre se non vuoi riempirti di polvere tutte cose che per alcuni suscitano un po' di reazioni avverse un po' di rabbia un po' di indisposizione ma questo è il tuo programma ma quello è il programma di Dio per te e sapere cogliere l'occasione cogliere la palla al balzo come si suol dire per reinventare una progettazione senza che noi ci illudiamo di essere i padroni della nostra vita è proprio Papa Francesco che nel definire cos'è la preghiera di adorazione la definisce con queste parole ridare a Dio il primato nella nostra vita dargli il ruolo che gli spetta cioè di colui che decide di colui che ultimo deve dare una parola su quello che sono le nostre le nostre vite le nostre giornate noi pensiamo ci illudiamo a volte di poter essere i padroni del nostro tempo i padroni della nostra vita ma di fronte a dei cambi di programma di fronte a delle emergenze delle situazioni di priorità che si presentano nella nostra vita occorre sapere fare passi indietro e dire ok signore io propongo ma tu disponi come dice il vecchio detto ecco allora pregare con la preghiera dell'adorazione ci permette di ricentrarci sulla giusta priorità dare a Dio questa centralità e creare in noi questo spazio uno spazio di disponibilità nel quale possiamo rinnovare il nostro desiderio di essere per Lui di essere con Lui di essere in Lui ecco la seconda colonna sul quale vogliamo porre l'arco della Pasqua ricordarci di donare questo tempo a Dio quasi come una restituzione sapete nella Bibbia c'è il precetto della decima cioè che un decimo dei doni di Dio sono da offrire quindi un decimo del raccolto era da offrire per i poveri un decimo di quelli che sono i nostri possedimenti vanno destinati per accogliere appunto ospitare un decimo del nostro tempo perché no forse oggi è uno dei beni più preziosamente gelosamente custoditi da tante persone il proprio tempo è come se fosse un capitale impressionante insomma in fondo il Signore il tempo lo dà per carità dice un vecchio saggio proverbio però ecco anche il decimo una decima parte del nostro tempo infatti voi se volete calcolarlo sulle 24 ore o sulle 16 12 15 ore di tempo di vigilanza perché il tempo del sonno è un tempo già donato ma certamente ecco un decimo della nostra vita può essere quello spazio che noi releghiamo alla Signoria di Dio un settimo della nostra settimana no un giorno su sette il giorno del Signore è certamente un giorno che noi dobbiamo riconoscere come donato e restituito in questa logica proprio della restituzione che è una logica di pace capite una delle motivazioni che spingono l'uomo al conflitto è l'aggettivo possessivo mio uno dice è mio il mio tempo i miei possedimenti le mie ricchezze la mia famiglia la mia patria il mio paese tutto tutto questo possesso inevitabilmente prima o poi crea conflitto perché perché ci sarà qualcun altro che dice no è mio e lì nasce nasce il putiferio nasce lo scontro perché uno dice no se una cosa è di uno non può essere di un'altra quindi ecco allora educarci nella preghiera soprattutto nell'adorazione a riconoscere no no non è mio è del Signore appartiene a te Signore a te lo ridono lo restituisco il sentire che ogni cosa che noi abbiamo non è nostra se il Signore la rivendica se il Signore la richiama se il Signore ha bisogno di quella cosa di quel nostro tempo di quella nostra ora di quel nostro bene di quel nostro possedimento di quella nostra ricchezza del raccolto è una parte la voluta del Signore perché è la sua perché non c'è niente di nostro senza che sia anche del Signore non possiamo niente ritenerlo nostro in un modo assoluto totale addirittura anche la proprietà privata dice il Catechismo della Chiesa Cattolica ha un limite che è il bisogno dell'altro se c'è un bisognoso che ha più bisogno di me in un modo radicale appunto di un bisogno fondamentale di un bene questo bene non può essere mio ma è suo e se lui lo prende fa un atto di giustizia una persona che muore di fame se prende qualcosa da mangiare anche se non è il suo e lo mangia non commette un furto perché appunto c'è una necessità che è una priorità più grande ecco allora la preghiera di adorazione ci aiuta a riconoscere che quello che noi consideriamo nostro il nostro tempo per esempio non è in assoluto nostro è nostro perché ci siamo amministratori di quel tempo amministratori di quei beni secondo una logica di provvidenza e di un piano che il Signore ha guardando tutti tutti i Suoi figli che sono nostri fratelli ecco allora la logica della condivisione e alla base di quel coraggio che abbiamo in questi giorni e che invito proprio tutti a trovare questi spazi di adorazione e se non ci sono le 40 ore nella vostra parrocchia in un'altra occasione se c'è una cappella di adorazione perpetua vicino di approfittare di dedicare questo tempo al Signore perché possa veramente essere una Pasqua per noi e per tutti una Pasqua di pace ave Maria splendore del mattino puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore grazie a tutti Grazie a tutti.